Ma è incompleta, no? La squadra è completa, poi c'è da migliorarla, che è diverso. Partiamo da una solida base, a cui riservo tutta la mia fiducia, perché è il gruppo che ci ha consentito di conquistare la Serie A. Poi ovviamente, come ogni passaggio di categoria, va inserito qualche giocatore, qualcuno è già stato inserito, sono contentissimo di tutti quelli che sono arrivati. È la prima partita ufficiale, è una partita importante per noi, perché ovviamente sarebbe importante passare il turno, perché ovviamente ti dà morale, perché passi il turno, perché vogliamo andare avanti. È inevitabile che chi è stato con me un anno è avanti, ma questo è normale, è la normalità. Per i nuovi ci sarà bisogno di un pochino di tempo, poi c'è chi ce ne mette di più, chi ce ne mette di meno, ma questa domanda risponde solo il campo. Un po' di più, mister, l'ultimo arrivato, che onda potrebbe essere la partita? Lui è arrivato ieri, quindi è difficile che possa partire dal primo minuto, se non ce n'è proprio estremo bisogno. Oggi valuterò tutti quanti e se dovessero stare tutti bene ovviamente la precedenza va a chi ha iniziato con noi e sappiamo quantomeno il livello di preparazione a cui è in questo momento. Cercherò di mandare in campo e cercherò di assicurarmi che chi va in campo, quanto meno, se non per forza maggiore, abbia la capacità di starci comunque 90 minuti. È guai se sento dire che non è il Napoli la squadra contro cui dobbiamo fare i punti, no, anzi, noi dobbiamo fare i punti contro il Napoli, contro l'Inter, contro il Milan, perché sempre tre punti sono e non è che prendi meno punti con queste qua. La nostra mentalità ci deve imporre di andare sempre in campo per cercare di vincere, poi è normale che siamo in Serie A e ci sono squadre sulla carta più forti di noi, noi dobbiamo smentire la carta.